Taglio del nastro per la seconda ricicleria Pescara in via Prati, che ospiterà anche mezzi e un'aula magna, cui i cittadini potranno conferire rifiuti particolari. Intanto è già partita la raccolta porta a porta, entro novembre ultimata a Porta Nuova e di seguito a Pescara Centro. L'ospicio è di una collaborazione fattiva da parte dei cittadini. Riccardo Chiavaroli, Presidente Ambiente Spa. Sì, oggi inauguriamo in realtà un nuovo impianto generale di ambiente, che è un impianto a servizio della città e della provincia. Avrà come scopo quello di far ricoverare alcuni dei nuovi mezzi, ma soprattutto sarà utilizzato come ricicleria, nel senso che sarà il luogo, oltre a quello che già abbiamo, dove i cittadini potranno portare autonomamente i rifiuti ingombaranti. In realtà è ben più di questo dal mio punto di vista, è il segnale di un'azienda che sta lavorando e anche bene, che sta utilizzando bene i fondi dei contribuenti, per mettersi al servizio. Facciamo un servizio di pubblica utilità e speriamo di continuare a farlo così bene. Tra l'altro è già iniziata la raccolta porta a porta. Esatto, in questo momento stiamo distribuendo il materiale nella zona di Porta Nuova a Pescara, che è divisa in tre zone. Gradualmente i cittadini troveranno nella cassetta della posta delle istruzioni e poi saremo sempre più dettagliati nelle prossime ore. Partiremo con Porta Nuova e mano a mano nelle prossime settimane arriveremo in zona centro. Pescara, città media, dunque il porta a porta è anche difficile da attuare, dice l'assessore comunale del Treco, ma è indispensabile ed ora bisogna aiutare i cittadini nel cambio delle proprie abitudini, nel conferimento dei rifiuti e occorre collaborazione. Però abbiamo sempre detto che si può fare tutto e lo stiamo facendo, tra l'altro investendo risorse sotto tutti i punti di vista finanziari, perché ha acquistato dei mezzi, di personale che dovrà aumentare. Però tutto è possibile farlo se c'è una collaborazione che noi auspichiamo da parte dei cittadini e di tutte le attività commerciali. Quindi toglieremo dalla città, dando maggior decoro, questi cassoni stradali e quindi un impegno che poi diventa veramente una pratica quotidiana, quella da parte di tutti, di ottemperare a quelle poche operazioni necessarie per far sì che la qualità della vita, la sostenibilità della vita sia migliore per tutti.